venduto, corrotto, testa di c***o, testa di solde, 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 tutti insieme, hashtag in the comments mi sono dovuto levare il microfono perché sennò si sentiva a macello e te credo e mo rimetto, eh che data ti è, bene ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti stiamo per sfidarci, qua facciamo FIFA 23, ci sfidiamo agli overhaul ma se arriveranno 5000 mi piace entro la mezzanotte, vi ricordiamo che lasciare mi piace non costa nulla preparatevi perché domani stesso vi portiamo subito l'episodio What's My Value classico quello dove ci sfidiamo sulla valutazione economica dei calciatori e visto il calcio mercato nel vivo sarebbe bello un episodio del genere dipende tutto da voi, lasciate mi piace, iscrivetevi mi raccomando e attivate la campanella per restare sempre aggiornati ogni volta che pubblichiamo qualcosa così non vi perdete nulla ma mi raccomando vi ricordiamo che abbiamo due canali di calcio quindi seguiteci su entrambi per restare aggiornati su tutto abbiamo pure un canale extra calcio, andate a spulciare quello che combiniamo anche lì tutti i canali li trovate qui sotto in descrizione o durante il video compariranno qui tiè! vai! allora, FIFA 23 tiè! vai! te lascio l'onore vai! mamma mia so, non arrugginito non è più vai azio, vai io ho letto Aruba, avevo letto dico ma mo chi è Aruba? magari Aruba Peccasi infatti vai! io so già in difficoltà adesso tanto non dovini vabbè, allora Isaac o Isaac che dirsi voglia c'ha 80 no cosa si dice Isaac comunque sbagliamo noi pochiamo Isaac non fa niente io Acugna secondo te 81, 80 o 79? allora potrebbe essere 8 e 3 ma secondo me almeno 81 85 io penso 83 onestamente ma stiamo scherzando vabbè, Acugna sì ma io non sto più in difficoltà di prima Acugna 85 ma perché avevo letto Philipp Lam? vai scusate ragazzi ho visto Bayer non ho letto vabbè io penso che almeno 86 se ne ce sarà non credo sarà proprio 85 84 io avrei detto 88 se ne fa io avrei detto pure 88 comunque raga mo ok godo si godo mo aspetta che io faccio 0 fa 1 a 0 lui so contento che la sbagliate e via dicendo ma mi spiegate esattamente gli overall una volta per tutte qui sotto nei commenti durante la stagione da quando comincia FIFA vengono aggiornati? transfer market li aggiorna? oppure se comincia con quegli overall e poi secondo me sono aggiornati perché sa ne alla fine me avevano detto sono sicuro secondo me è calato ma avete scritto in tanti che non aggiornano secondo me è deciso che restano quelli da inizio stagione quindi a meno che non l'hanno aggiornati mo ma non credo è impossibile perché è FIFA 23 quindi quello ce lo scrivete nei commenti tocca a me quindi c'è un'opportunità hai vinto ecco fatto comunque lo fanno apposta ecco fatto comunque con me è un qualcosa di incredibile ti mettono Anthony 82 con Jesus Navas che c'ha i suoi anni perché è un edge quanto c'ha? 36 quasi 38 37 quasi 38 allora ragionando così non è possibile non è possibile allora però tu non mi hai fatto manco cominciare un ragionamento è forte nazionale ruba il posto a Carvacal quello che te fai io c'ho pochi dubbi che era più alto no 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 io c'ho pochi dubbi no 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 38 anni 83 no no cioè Anthony che te fa che te fa sì che te fa come fai a dare mi sta a girare a capoccia aiuto peccato che se vede il piede mi reggo in piedi mamma mia no lui se regge in piedi mi fa 82 ragazzi lo sapevo lo sapevo non dovevo dire godo lo sapevo il karma mi ha punito 1 a 0 per me che vergogna guarda chi è? Frimpong? allora Ruben Dias con Calvin Phillips diciamo che in questo senso Calvino Filippino mi viene un pochino in aiuto Filippini Phillips sì esatto sono 81 sono 81 Calvin Phillips sono 81 io ogni volta ne sbaglio tra Ginter e Ginter ma non c'entrano niente come fai a sbagliare? mi confondo vabbè vai Ginter io penso che almeno 82 ce sarà non ce posso ragazzi è l'82 cioè ragazzi io devo smettere questa serie io devo chiudere questa serie non è possibile vai allora Fufana sì vai strapagato dal Chelsea però non mi sembra abbia fatto una stagione strepitosa non gli sembra però le valutazioni della Premier le sono sempre strane stava all'Eister può essere che era già più di 82 secondo me è più basso 89 un po' di bala vai si respira vai coi regalini vai vai coi regalini Transfer Market si respira ecco fatto che è Manai? Marets avevo detto Manai vai mamma mia che fai? allora sono indeciso se dire identico più alto sei uno scandalo tanto lui è sempre indeciso ma poi becca sempre chi c'hai in auricolare oggi? eh? diretta chi c'hai? chi te sta suggerendo? vai vai sta con FIFA a cercare i data base io allora non credo che sia più basso ad 86 secondo me è pure 87 no era proprio 86 ma se prima ho fatto 0 ma secondo te io come posso fa 5 io ero convinto ma ho ricordato uno dei pochi che mi ricordo 86 avrei detto proprio 86 ma Ronaldo è ancora 90 è il yuk de Jong vabbè Ronaldo è ancora 90 perché ha cominciato col come ma ci sta ricorda ancora il Manchester sta il campionato arabo su FIFA ma lo metteranno sicuramente no ma forse già ci sta forse già ci sta eh vabbè rica ok posso camminare con Frenkie de Jong no manco ne mancano 3 senti Firmino non ne mancano 3 ma pareggiamme attenzione ne mancano 4 ne mancano 4 è quanto Firmino una nonna è una zia si svincola si fa piagne e via dicendo 83 83 ecco il problema è proprio 83 no è 91 o 90 90 la paura fa 90 quindi stai già a 4 perché questo è sicuramente più basso ok compreso questo ok quindi potete vedere qualcuno storto no ma 84 è il numero brutto no non c'è credo non c'è credo non c'è credo guarda questa è corruzione per te però se questo è corruzione non c'è prova questa è corruzione questo è lo specchietto pelle all'odore questa è la corruzione per te non fida non c'è stato a far contente così non vedrai come vinci corruzione vedrai tu come vinci col punto decisivo vai va guarda chi te danno muore allora che pipa andrea andrea pipa si abbastanza che ne so io no no de meno tanto 84 infatti mi ricordavo qualcosa del genere Luke Shaw identico no non fai che niente tanta ho vinto vai ma tocca a te che vai vai no nel senso vai vamo avanti qua me no con a te con a te devo mi te vai che è sta faccia non lo so ecco che sta faccia c'è tanto dico proprio spassionatamente non la so studia non la so non la so vai ci sta poco da ragionare che vuoi ragionare allora c'è stata ragiona sul fatto che secondo me è più basso ma non ne so così sicuro non ne so così convinto con a te non è un titolare del Liverpool cioè che mi ricordo è capace pure ho un lite brave la prima impressione che ci vuole era 78 ma guarda sarà 80 81 non la sapevo proprio non la sapevo proprio ah 0 quindi possiamo pareggiare io peggio di 0 un po' è comune fa meno 1 è difficile ti voglio dare la possibilità ti voglio dare la possibilità di pareggiarmi perché se perché poi dici tu quella volta non dico niente no no mi è rimasta qua quella volta che tu ti sei lamentato che io mi sono preso la possibilità che stai avvenendo io non tado tado allora fernando torres fernando torres al barcelona non ce l'ho mai visto però secondo me è meno di 82 perfetto ok mi ricordavo fernando torres infatti una cosa del genere musa di a b identico no no sono stati a b è un bel giocatore non so vai allora mi puoi pareggiare allora che si penso sia più alto ok senza andare troppo ragionamenti chiesa si abbassa no bene è destino pensavo 83 sai perché sei entrato nel pallone no non sono entrato nel pallone il racchio è 85 se non mi ricordo no aspetta 2 a 2 non ci posso crede 2 a 2 cioè io ti ho appena detto sei stato troppo problema frettoloso più alto perché l'ho appena visto più alto perché l'ho appena visto ah perché non lo sapevi diogo c'ho da più basso 85 no ragazzi ho paura adesso adesso concedetemi un po' di paura eh vabbè ma come me lo fanno apposta ma veramente ti sei lamentato dopo 80 episodi che ti hanno regalato me lo fanno apposta senti Odegaard io mi ricordo che ho 84 e mi ricordo bene e allora perché devi far finta che non lo fai perché si hanno alzato il coverall ma stai zitto mi dai un fastidio sono indeciso tra 84 e 81 beh te sei perso per strada due punti però overall ma bene in realtà tra 84 e 81 tra 84 e 81 hai detto 84 e 81 ci stanno due punti di mezzo quello intende ah sì in quel senso sì vai quindi mi ricordo 81 82 no non ci posso credere avevo flashato che avevi sbagliato si letto così è particolare io ne avevo letto in golo eh in golo cantè eh vai lo so difficili ragazzi sono difficili so difficili l'andovina ma occhi chiusi è calato sì perché è calato sì quindi allora più basso non direi guardiamo l'81 ancora 89 era inizio anno so io ho avuto inizio anno abbiamo svelato l'Arcana sì ma non li non li modificano Scesni era 90 non credo sarà 88 ma qual è 88 86 ho perso Casemiro è più alto mamma mia 89 ma certo 89 il Q&D era inizio 84 sì perché Casemiro è meno 89 Cancelo è più alto 88 ho perso ragazzi non c'è Alfonso Davis è più basso perché è 84 sono cascato su Berretti Declan Rice più alto eh ma hai fatto 10 cioè se hai bisogno io ho fatto ho fatto 3 per rabbia de fame senti Walker è più alto cioè mi meraviglierei se fosse più basso non so perché per un attimo ho flashato pensavo di sbagliato NDT è più basso ma no vabbè no 85 era impossibile fa era 85 NDT Dembele è 83 se non mi ricordo male guarda guarda tutte sul filo del rasoio guarda ma me ricordo tutte sul filo basso più basso no senti me ne vado me ne vado me ne vado ah sì perché allo United te l'ho detto io prima hai voluto te l'ho detto io ho già rivincita cioè non voglio proseguire per me ho perso hai voluto allora ho vinto allora ho vinto eh no eh no allora ho vinto no no te l'ho detto prima hai voluto per forza continuare problema tu ma vaffan ciao ciao